Salve a tutti ragazzi, oggi puntata speciale in cui ci lanciamo freneticamente nell'azione super appagante, super devastante di Warhammer Darktide 40.000 Iniziamo senza guardare nemmeno dove ci tuffiamo, partita speciale, partita veloce, partita senza... senza Squadra di livello superiore 30-30-30-26, io sono pronto, mi lancio con questa squadra alla scoperta di questa missione Ok, il torrente ragazzi, il torrente non è una missione facile ma cercheremo di farla nel migliore dei modi con una squadra che sulla carta almeno si deve essere superiore a chi vi sta parlando signori Bene, ehm... Giusto, giusto Probabilmente c'è una condizione speciale, a quanto pare sembra di aver capito che sono dei segiugi Ma che cazzo succede? Merda, no, non vedo un cazzo Non vedo niente Ok, di qua Qua, di qua Qua, di qua Quanto è lenta a caricare questa nave del tarono, signori Lentissimo, signori, lentissimo Trovo vergogna Per chi l'ha progettata E' un ferito qua Che dove si è per me? Figura di merda Come si voleva dimostrare Dai raga, ce la potete fa' Ce la potete fa' Ci siamo incastrati in un posto del cazzo Ci siamo incastrati veramente male Veramente male Tutti morti E' la fine Bene, sogni di gloria Infranti Bene ragazzi, ci riproviamo Anche questa volta 30-30-30 Non so se sono gli stessi Però probabilmente Si, data la figuraccia che abbiamo fatto E' niente Riproviamoci Nuovo tentativo Nuova corsa Un po' più fidociosa Un po' più calma Anche cambiando Plasma Rispetto a quella spara lancia Che è un certo più utile Di spara lancia Di esplosiva Di una lentezza Dallanti spaventosa E' niente Se questa In questa terapia C'è la migliore Plasma E' fino a quando Non troviamo un'arma Che rispecchia un po' più Il nostro livello Ok Non ricordo il nome Di questa missione Però Non va bene Non va bene Non vedo niente Qui sono i bestioni Ragazzi Se voi come li trovate Fatemelo sapere Nei commenti Qui sotto Qui sotto Ecco L'importante Che fate Per bene Comunque Cos'è che Che ci rende Ora Questa è Giogna Questa è Un po' di Un po' di Ok 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 Inaspettatamente Bastardi Alle spalle Quando si Ha Un po' di Un po' di Un po' di Capitare Oh, ovviamente non c'è! a se speciali siamo bloccati non si fanno progressi direi che stiamo anche lanciarci giù direi che direi che assalto di piena rega no no ecco ragazzi è difficile anche questa volta la squadra è brutta un po' troppo un po' troppo spigli un po' troppo spigli troppo separati insomma non non sono sbloccati un po' troppo che non ci stiamo ancora rischiando si vede tutto un panico salta un altro potremmo veramente compromettere una missione eh sì sono rimasti due e anche parecchio lontani con degli amici abbastanza spero abbiano un bel problema di sosta non 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 spesso che che felice Next il no ok vai e niente ragazzi anche questa volta salta ancora una volta i nostri tentativi di deludere l'imperatore si stanno rivelando veramente tutti molto fruttuosi però dai no abbiamo ancora un giocatore in bot ok ok adesso ok 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 l'abbiamo fatta dai ok ok c'è ma solo in due però Dov'è l'altro? Dov'è l'altro ragazzi? Ok ok, lo possiamo fare Lo possiamo fare Ok, sono in quarantena, ci stiamo avvicinando Dai, Sanji! Che c'è? L'altro ragazzi There's a suitable location in the galaxy TNT The Servo's skull intrigues me What desire or invite me to bat Oh, James Sniper! Is there an entity? Devine Tempare Oh, 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 oh. Grazie! Merda, merda, che cazzo? Merda, merda, che cazzo? Maledetto lancia, cazzo, merda. Oh, che cazzo? Andiamo, 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 andiamo. No, cazzo, cazzo. Un'azione speciale, la scarda. Dai, io, ragazzo. Manziamo un po'. Manziamo un po', manziamo un po'. Tutti colpiti, ragazzi, ancora una volta. E niente, e niente, niente. E anche questo tentativo, che sembrava recuperato a un certo punto, è andato alla malora. difficoltà molto, 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 molto evidenti. Dove erano condizioni speciali, però molto, molto difficili e antipatiche. E niente, anche stavolta, tentativo, non riuscite. Riproviamoci, riproviamoci, ragazzi. E ragazzi, nuovo tentativo, livello 30, 29, 30, 26. Mi sento scarso, effettivamente. Però dai, ragazzi, non lo dire niente. In questo posto, abbiamo visto come un partito. Rannick vuole uscire a prenderlo. Se, per esempio, magari stessi un giocatore. Il gioco con... Sentry team's easy. Never thought I'd miss those days. Siamo tutti i nostri spettatori, siamo tutti i nostri spettatori, sono tutti i nostri spettatori. Questo posto non parla di lavorare, nemmeno? Questo è il modo! Questo posto è il punto! Ci ha un po' di avere il gioco! È il punto di essere il rei! Perciò! Perciò il gioco! 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 Sì! affermi qualcuno è senza ammo, qualcuno è senza ammo no ragazzi dove siete andati dove cazzo siete? non arrivo alla merda tutti sopra, forca merda no cazzo, non l'ho spassata no cazzo no cazzo no cazzo no cazzo Stunz with us! Come on! Try a grenade! A guard never surreges! Spoonworker! Bostbusters, go! What is that? Is that the chamber? Crisis 3, return fire! Bomber is dead! What the fuck! I have to kill this bomb! Fuck! Thank you! You're in cover! Take your shots! Major eliminate him! Major's got quiet! Aaaaaah! 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 Bostbusters! It's still a mess! It's still a mess! You're not in those weapons! I'm not! Grazie a tutti! 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 That's a flashback! Take me! Flashback! Come on big man, break him all apart! Come out of the escalator! Got him. Got him. Got him. He's got me! He's got him up. Got him. 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 Get him! Get him! Get him! Jacky! Frank! Go there! You're out of me low! Okay. It's a tough guy that's in here. Er... He's got to see all the shots. He's got his eyes! I've lost his eyes! This time goes away! He's got his sword. He's got his sword. All right! ragazzi di livello devo dire una morte per un livello 30 bene veloce nuovo look per il nostro fusetto eccolo qua il pantalone è un po' non a tema però diciamo che può andare così riteniamo anche se non proprio alla moda però almeno abbastanza efficaci e lanciamoci in una nuova avventura super velocemente anche questa volta squadra di livello devo dire equilibrato 27 27 30 30 ancora una volta il mio look mi fa sentire molto da meno però diciamo che può andare così armatura della zelota un po' datata molto retro e squadra pronta all'azione in questa missione del titolo che non ricordo direzione probabilmente questa stai pormigione non è un nostro problema perciò piena di ponti avvistamenti di 6 gugi della peste non è ancora chiaro scudo diciamo alquanto non necessario però il nostro collega diciamo ha preferito usarlo lo stesso granata preventiva signori capisco cosa stanno sparando andiamo capisco capisco Sente di corrupersonare! Dietro ranger! Dranger! Kill it! Oi e il impero! Guardi la mano! Senti di regio! Supo il corpo! No! No! La sciega! Bene, colpito dall'ospite demoniaco, la mia fine è abbastanza vicina, a meno che non l'ho, niente, non ce l'hanno fatto ragazzi, vabbè, per pochissimo, ce l'hanno provato, dai, ce l'hanno provato. Ok, grande salvataggio, relativamente veloce. Non ricordo per niente questa missione, pure devo averla fatta almeno una decina di volte, al minimo. Ok, forse, stiamo aspettando qualcuno, forse dobbiamo scendere noi. Non ricordo, non ricordo che cazzo si fa in questa missione. Maledizione ragazzi, questo è quando si fanno le missioni in velocità. Darktide è completamente come anche Verminted, insomma, un certo livello basato sulla velocità con cui si terminano le missioni. Darktide, appunto, non è da meno, è Verminted 1-2, che è un stile di gioco frenetico, veloce, a mano che si prosegue diventa sempre più necessario. Anche per non incappare in continue ondate, i nemici. 3 dicembre ragazzi. Quanti cazzo di cani. Tante danti. Tante danti. Quanti cazzo di cani. Quanti cazzo di cani. Sì, 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 sì. beh io non so per quale motivo veloce bene colpito da un segugio maledetto avanzata quasi inarrestabile quasi appunto quasi quasi spero che questa cosa non metta in difficoltà la squadra avanzata giocchiamo subito sulla porta e stegna la squadra ok visione bianca e nera nonché scarse munizioni brutti segni signore brutti segni scarse munizioni e so proprio che sono ok munizioni pescate questione qua eliminato punto debole ragazzi punto debole con questi qua è necessario colpirli al punto debo una volta ok un po' di caos ma tutto a posto minchia tutti ora stanno arrivando ovviamente ovviamente qui necessitiamo di munizioni altra che di salute stazione medica recuperata la staccia io recuperato altro segugio da dov'è il nostro quale cazzo è il nostro Cazzo. Vittoria! Maledetto. Abbiamo munizioni ragazzi. Non siamo nel corpo a corte. Spiral's gonna blow! Spiral's gonna blow! Spiral's gonna blow! Lassi! Spiral's gonna blow. Isla. e ok 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 che cazzo ragazzi un po' di munizione però egoist 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 Ero te lo chiede! Ammo crite! I suppose... Oh, a heliastic. Andiamo. Ok eliminiamo questo capitano. Che cazzo è sto capitano? Capitano eliminato mi sa. Ok. 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 Adesso è fatto. Credo. Notato. Si. Missione completata. Ragazzi. Abbiamo eliminato il super più o meno. della situa e niente dai dai direi posso ritenermi soddisfatto almeno qualche missione l'abbiamo portata a casa livello 28 raggiunto arma da combattimento pugnaletto vabbè e niente ragazzi niente un po' di traguardi per il nostro fusetto e qualche ricompensa e penitenza portata a casa controllatina veloce di quelli che sono i risultati della partita di oggi e poi passiamo ai saluti ragazzi vi ringrazio ovviamente anche questa volta per essere stati qui su questa puntata piena di tagli per farvi godere appieno della frenesia spero di esservi riuscito di vermentai di dark tide scusate io ho preso anche un nuovo pantalone che in quanto pare molto simile a quello che già avevamo un pantalone rosso classico della della del lordo militarium programma recupero dei reietti sta nuova arma volendo si potrebbe anche provare a brandire fra l'altro ha dei buoni le buone benedizioni che possiamo provare a estrarre nuovi cosmetici abbiamo visto questo pantalone rosso che non non credo di sia opportuno equipaggiare insieme a questa abito già di per sé un po' carnevalesco e vediamo un po' se riusciamo a mettere qualche qualche buona buon punto più che altro i gitmerici curano più velocemente eliminano corruzione dai mettiamo questo oppure esplosione gemella con la doppia granata che la doppia granata non è male potenziamo anche possiamo potenziare l'attacco corpo a corpo dai proviamo a potenziare prossimamente questo corpo a corpo e niente qui anche abbiamo 4 punti portiamo questo a casa e niente chiusura della missione ragazzi vi ringrazio per essere stati qui e anche questa volta vi lascio dei miei saluti con fusetto versione resistenza di cadia con questa armatura lui accadia c'era poi sia vero o no intanto ce l'ha scritto sull'armatura e vi manda i suoi saluti con questo suo nuovo elmetto che diciamo gli toglie un po' del fascino da niciano o da barbuto ma comunque lo rende effettivamente un po' più letale dal punto di vista non so se è vero della del look ecco gli cambia leggermente la voce anche se non abbiamo avuto modo di sentire appieno non siamo concentrati su quello livello 28 raggiunto ragazzi ci vediamo al prossimo obiettivo livello 29 ciao ciao